buongiorno ronda è un bellissimo nuovo giorno svegliati sei in perfetto orario ora scegliamo dei vestiti l'armadio di ronda è perfetto come la sua vita qua rossi perfetto quasi finito ora sono le otto mi sto attenendo al mio piano mamma io esco fatti vedere questa è la mia ragazza ciao salutare la mamma fatto si spacca ronda è molto popolare a scuola ciao ciao buona giornata sono così popolare avere una mentalità positiva è fondamentale perché nella vita reale ronda non è neanche lontanamente popolare come vorrebbe essere e questa è foxy la ragazza più cattiva della città foxy cosa stai facendo quello che voglio signorina flop hai visto foxy è così forte non ha paura di nessuno wow devo essere come lei se voglio essere popolare una ragazza cattiva a foxy non importa dei voti tempo scaduto mettete giù le penne foxy avrei sicuramente una f e allora ronda alla mia studentessa preferita hai preso il massimo no assolutamente no sono troppo figa per avere buoni voti esatto hai preso una più sei patetica come no neanche a me interessano i voti tutti sanno che le ragazze cattive sono tutte in gruppi rock wow scusate 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 se disturbo posso unirmi alla vostra band cosa seriamente stai scherzando vero bene scegli uno strumento la batteria non credo proprio allora credo la chitarra chitarra ok ecco sai suonare la chitarra che ne so io di musica si sa suonare oh no le mie orecchie ci stai torturando dove sono tutte le brave ragazze fanno cardio e le ragazze cattive fanno box sì questo è quello che devo fare ciao scusami ciao posso fare box con te bene sembro già rocky ho finito steve facciamo a cambio ci siamo andiamo andiamo ronda aspetta solo un minuto questo è barney fai il bullo con lui cosa perché ciao aspetta dai picchialo no 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 sì aiuto non preoccuparti barney ti vendicherò ho battuto il bullo sei stata tu ronda ottimo lavoro sei la nostra nuova campionessa ecco ed ecco la tua cintura ah è il mio distintivo di allenatore te lo meriti le brave ragazze vanno in bicicletta e le cattive ragazze vanno in moto ecco cosa mi serve una bella moto buon pomeriggio posso oh un evangelista prendi quello che vuoi è stato facile è della mia misura è così sporca devo pulirla devo pulirla ronda fermati le moto sono troppo pericolose scendi da lì tesoro e io rivivrò i miei giorni di gloria libertà libertà ogni ragazza cattiva dovrebbe avere una migliore amica fichissima sì questo è quello di cui ho bisogno chi può essere la mia cattiva amica melanie no lei è troppo semplice forse è la donna delle pulizie no wow è una bella ragazza tosta perfetta cosa sta lavorando a maglia qualcosa di rosa e carino non esiste dove posso trovare una nuova migliore amica cosa mamma hai un aspetto fantastico mi piace è così da dura rock on amica tosta c'è ah quei nerd facciamo qualche cambiamento cosa sta facendo oh scrive cose cattive sì le ragazze cattive rovinano le foto delle persone aspetta posso farlo anche io ho corretto tutti gli errori così va meglio la mia canzone preferita come butta il college fa schifo Foxy smettila guarda cosa stai facendo stai mettendo in imbarazzo l'intera scuola non me ne frega niente ecco che devo fare litigare con la preside questa F dovrebbe funzionare miss burple guardi il mio voto una F chi ha osato darti questo voto sei la migliore studentessa della scuola guarda sto litigando con la preside no nessuno è impressionato ma che pensavano e ora che facciamo ehi barney entra nell'armadetto ora che pop it carino giochi ancora con i giocattoli ehi cattive ragazze wow ora sei una di noi non credo proprio cosa? corriandoli pop it te ne pentirai no e stai lontano da barney capito? stai bene? il mio pop it si che sfortuna ma prendi il mio simple dimple grazie di niente ti è piaciuta la nostra storia selvaggia? scrivi qui sotto se ti è piaciuta di più la ronda buona o la ronda cattiva e ragazzi iscrivetevi al canale mettete mi piace al video e cliccate sulla campanella non perdete nessun nuovo video esilarante di woohoo ciao ciao